Musica Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia in apertura come sempre gli aggiornamenti sul Covid-19 in calo il numero di contagi nelle Marche aumentano invece i guariti e i dimessi dagli ospedali in diminuzione anche le vittime nelle ultime 24 ore sono decedute 13 persone tutte con patologie pregresse i dettagli nel servizio di Francesco Salvago 13 i decessi odierni di Covid-19 nelle Marche sono morti 7 uomini e 6 donne di età compresa tra 46 e 96 anni tutti avevano patologie pregresse il più giovane aveva 76 anni di Isola del Piano mentre il più anziano aveva 92 anni di fermo il totale aumenta a 682 vittime da inizio emergenza per la seconda volta nel giro di pochi giorni scendono sotto 100 più precisamente 96 i tamponi risultati positivi al coronavirus su 662 analizzati nelle ultime 24 ore nelle Marche lo rende noto il Gores complessivamente salgono così a 4.955 i casi positivi rilevati dall'inizio dell'emergenza su 18.194 test effettuati aumentano i dimessi e i guariti degli ospedali marchigiani a 885 i ricoveri in terapia intensiva risultano 133 in aree di semi intensiva 271 nei reparti non intensivi 463 indegenze post critiche 211 i casi di isolamento domiciliare risultano 2.323 mentre i contatti in isolamento in casa con positivo arrivano a 7.984 di cui 4.738 sono asintomatici e 3.246 presentano sintomi 1.113 invece sono operatori sanitari la provincia di Pesero Urbino è in testa con 2.044 casi positivi segue Ancona con 1.481 Macerata 732 Fermo 339 Ascoli Piceno 236 casi 123 sono invece extra regione Ed è partito oggi lo screening serologico per 3.800 operatori sanitari degli ospedali riuniti di Ancona i test permettono di verificare attraverso un prelievo del sangue se la persona analizzata è venuta in contatto con il virus o se è diventata immune l'esame ha un tempo di risposta di 2 ore se l'operatore risulta negativo viene ritestato dopo 15 giorni se è positivo viene allontanato e sottoposto a tampone di conferma in caso di positività confermata l'operatore viene allontanato per essere ritestato sempre con un tampone a distanza di 7 giorni si comincerà con 200 serie al giorno testare il personale sanitario in tempi rapidi afferma il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli è un'azione di tutela sia per gli operatori sia per i pazienti è stretta sui controlli per le festività pasquali oggi si è tenuto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica preseduto dal prefetto Vittorio Lapolla per quanto riguarda l'arma dei carabinieri il comandante provinciale Luciano Ricciardi fa sapere che verranno dislocate da sabato a lunedì circa 80 pattuglie per un totale di oltre 160 militari al giorno verranno eseguiti controlli sulle principali arterie di collegamento e nei luoghi di maggiore attrazione turistica insieme alle pattuglie della Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale che completeranno il dispositivo di sicurezza messo in atto inoltre per la giornata di Pasquette è previsto anche il sorvolo aereo di un elicottero dei carabinieri per garantire anche dall'alto il controllo del territorio ha trasformato un carrello per le riprese video in uno strumento per azionare in automatico i respiratori a diventare questo macchinario molto utile a fronteggiare l'emergenza coronavirus è l'ingegnere fanese Andrei Falcucci il servizio di Lino Balestra il sistema è dotato di un motore retroazionato e di vari sensori che controllano posizione, velocità, resistenza offerta al respiratore e presenza dello stesso ovviamente un ingegnere fanese ha progettato in 5 giorni un prototipo automatizzato di respiratore manuale AMBU e lo ha messo a disposizione del servizio sanitario della regione Marche Andrea Falcucci, questo è il suo nome, marchigiano doc, residente a Fano è un ingegnere meccanico laureato alla Politecnica delle Marche e nella vita di tutti i giorni progetta e sviluppa prodotti per riprese cinematografiche l'ingegno marchigiano quindi quale contributo operativo per affrontare e superare questa difficile situazione emergenziale dovuta alla Covid-19 la sua creazione che come tutte le cose geniali è estremamente semplice ha presto conquistato anche la ribalta nazionale in questi giorni in cui l'Italia è chiamata a restare a casa Andrea allora come ti è venuto in mente di mettere a frutto un po' così il tuo background, il tuo bagaglio professionale per questa operazione così a supporto dei sanitari? Guarda è stata abbastanza naturale nel senso che si parlava di questo problema di ventilatori sappiamo che mancano ventilatori quindi l'unica cosa che mi è venuta in mente era cercare di assolvere una funzione prettamente meccanica cioè quella di movimentare un palloncino di respirazione manuale e cercare di farla fare a qualcosa di automatico la prima idea è stata quella di modificare quello che realmente già abbiamo a catalogo quindi prendere un carrello per il cinema e modificarlo l'idea è venuta bene, ha funzionato a quel punto utilizzare un carrello da un metro per muovere un palloncino di 13 cm mi sembrava un po' esagerato e quindi è stato fatto un progetto ex novo mettendo dentro tutto quello che serviva quindi controller, motore in modo tale che potesse essere tutto molto compatto Ma come tutti i progettisti Falcucci ha già pensato ai possibili sviluppi della sua creazione è stata già predisposta una porta di espansione per inserire un display nel caso fosse utile e ovviamente sono presenti tutti gli ingressi per tutti i sensori necessari a rendere questo prodotto più ad uso ospedaliero Il respiratore è di ridotte dimensioni è alimentato tramite un'autonoma batteria e tutti i parametri possono essere variati anche tramite app dal momento che il sistema è in grado di generare una porta di accesso wifi Il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Caglipergola ha scritto una lettera per le famiglie colpite dal lutto nelle ore tenebrose della vita ha scritto il vescovo ci può soccorrere la fede quello che dobbiamo credere con sicurezza è che Dio non vuole perdere nulla di quanto ha creato anche Gesù sa cosa significhi piangere per la perdita di una persona amata anche Gesù ha sperimentato nella sua persona la paura della sofferenza e della morte la delusione e lo sconforto contempla un crocifisso che ti è particolarmente caro prosegue la lettera osservalo con gli occhi della fede la morte è parte della nostra vita ma in pieno buio lui è con noi ci accompagna e asciugherà le nostre lacrime la preghiera non serve a cambiare la realtà ma a guardarla con gli occhi di Dio ed è questo sguardo nuovo che poi fa miracoli un grande augurio ha concluso Trasarti che il buon Dio, i miei cari preti e qualche fratello sorella vi aiuti a rotolare la pietra della morte per intravedere la fede nel risurto Santa Pasqua un omaggio ai defunti con un minuto di silenzio e la deposizione di un mazzo di fiori all'ingresso dei cimiteri e all'iniziativa del comune di terre roveresche prevista per sabato mattina alle ore 11 il sindaco Antonio Sebastianelli sarà davanti a ciascun cimitero a rappresentare la comunità che anche se distante dalle proprie abitazioni sarà idealmente lì a rendere omaggio a tutti i cari i campi santi, precisa il primo cittadino rimarranno chiusi al pubblico fino al 13 aprile salvo ulteriori proroghe intanto l'amministrazione comunale ha dato disposizione ai propri dipendenti di seguire la pulizia all'interno dei cimiteri e sistemare gli eventuali vasi caduti ed ora torniamo a parlare del terremoto nelle Marche perché sono state trasferite risorse per anticipi a professionisti e imprese inoltre sono in arrivo 116 unità per gli uffici speciali ricostruzione lo ha annunciato oggi pomeriggio il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli che ha tenuto una videoconferenza proprio sul tema sentiamo e volevamo dedicare questa conferenza stampa al tema del sisma se avessimo comunicato sui temi della ricostruzione post-sisma come abbiamo fatto con l'emergenza sanitaria coronavirus sarebbe stato tutto più efficace nel far comprendere cosa volevano le Marche e cosa voleva il governo la comunicazione istituzionale non ha aiutato a capire bene questo cosa che invece non è avvenuto per il coronavirus dove una comunicazione più incisiva ha fatto capire a tutti cosa voleva la regione e quello invece che erano le posizioni di Conte e questo il rammarico nemmeno troppo celato del governatore delle Marche Luca Ceriscioli scaturito dalle osservazioni che i marchigiani di quei comuni coinvolti nel sisma gli esprimono ogni volta che ne hanno occasione rammarico espresso durante la videoconferenza stampa di questo pomeriggio con i giornalisti collegati in streaming nel quale si è parlato quasi esclusivamente di ricostruzione post-sisma non è cambiato il mio atteggiamento ha detto il governatore ma solo il modo di comunicare prima di questa sottolineatura fatta a margine delle risposte alle domande dei giornalisti collegati Ceriscioli ha voluto e tenuto a precisare che l'argomento Covid-19 ha fagocitato in queste settimane tutte le altre argomentazioni ma questo non vuol dire che gli uffici della regione non siano operativi su altri fronti anzi sul tema ricostruzione il nuovo commissario ha impresso una decisa spinta in avanti accelerando su alcuni temi e riunioni autorizzazioni e disbrigo di pratiche sono andati avanti col lavoro da remoto da casa dei funzionari questo nuovo impulso ha portato a 5 nuove buone novelle a riguardo del tema il primo punto dell'emergenza sanitaria non ha inceppato o congelato la macchina burocratica della ricostruzione quindi poi le 116 unità di rinforzo chieste a luglio per aumentare la forza lavoro sulle pratiche stanno per arrivare in regione per le imprese poi ci sono sul piatto 100 milioni di euro per lo stato di avanzamento dei lavori comprese anche le spese effettuate sino ad ora una bella boccata d'ossigeno per le oltre 1300 pratiche vase per la ricostruzione per i professionisti poi della progettazione che hanno operato e che hanno fatto da banca praticamente finanziando l'istituzione delle pratiche sono pronti 10 milioni di euro con un fondo a rotazione di 31 milioni di euro le somme poi degli sms solidali più volte al centro di accesi dibattiti hanno contribuito a realizzare 81 opere su 99 e altre 18 stanno per essere completate ultimi ma non ultimi poi dal fondo di 50 milioni di euro del CIP 20 sono già disponibili per l'edilizia popolare che consentirà a molte famiglie di uscire dai moduli e rientrare in una degna abitazione l'epidemia da nuovo coronavirus ha cambiato radicalmente la nostra quotidianità ma anche quella dei più piccoli che cosa fare per intrattenerli? la fanocità dei bambini sta pensando a loro con tante attività e laboratori dedicati ma per i bambini è arrivato anche un video messaggio del sindaco Massimo Seri salve a tutti i carissimi cittadini al giorno d'oggi sappiamo che la situazione non è delle migliori ma il consiglio dei bambini ci tiene a ricordare che tutto andrà bene e che grazie ai nostri sforzi tutto questo finirà grazie, ciao e ricordate che tutto andrà per il meglio Alberto, Giovanni, Giacomo, Gioia e tutti i bambini consiglieri della città di Fano ce la stanno mettendo tutta per dare il buon esempio intrattenere gli altri collaboratori e progetti e lanciare messaggi di speranza se rispettiamo le regole andrà tutto bene responsabili e interessati alle problematiche della città ma anche attivi, fantasiosi e abili nel realizzare disegni e lavoretti i bambini stanno attraversando un momento non semplice abituati a uscire e di incontrare amici in questi giorni di permanenza obbligatori a casa hanno dovuto reinventarsi e trovare alternative per giocare ad aiutarli è anche Elisa Bilancioni di Fano Città di Bambini che nel gestire l'omonima pagina Facebook sta pubblicando attività e iniziative per intrattenere i più piccoli Elisa, un mix tra cultura, divertimento e intrattenimento sono davvero numerose le attività che famiglie e bambini possono trovare e seguire sia su Facebook che sul vostro sito web si davvero ci siamo attivati quasi subito perché pensiamo che sia molto importante stare vicini alle famiglie soprattutto in questo momento nonostante i tantissimi compiti e la vicinanza che anche le insegnanti comunque stanno esprimendo in modo veramente molto ricco a tutti i bambini ci siamo attivati anche nelle connessioni tra noi tra tutti i siti istituzionali del comune le pagine Facebook e le iniziative che comunque ruotano intorno ai bambini quindi abbiamo fatto un po' da collettori abbiamo cercato di dialogare anche con Casarchilei, con la Mediateca c'è una nuova pagina Facebook molto interessante che è lo 06, il coordinamento e quindi noi cosa facciamo? cerchiamo di pubblicare sempre a mezzogiorno un nostro contenuto qualcosa che sia in qualche modo ritmato quindi lo stesso giorno c'è sempre la stessa attività o di musica, o di arte, o di natura oppure un tutorial fatto anche dai bambini consiglieri e poi durante il pomeriggio cerchiamo di pescare qua e là qualche attività carina e simpatica da proporre anche ricondividendo altre cose per intrattenerli e strappare un sorriso in più a loro certo, ci sono per esempio dei quiz da parte del maestro Giorgio o della maestra Stefania Carboni che loro conoscono anche molto bene che davvero tengono intrattenuta proprio tutta la famiglia Anche il sindaco di Fanosteri ha pensato ai bambini della città dedicando loro un videomessaggio invitandoli a scrivere pensieri inviare disegni o attività per raccontare questi momenti di emergenza vissuti a casa un modo per stare lontani ma vicini Lo so, siete stanchi perché sono tanti giorni che siete rimasti in casa ma siete stati bravissimi anzi, qualche volta siete stati anche più bravi di noi adulti però vi chiedo di avere ancora un po' di pazienza e continuare perché questo comportamento è importante per tutelare la salute vostra quella dei genitori, della famiglia un po' per tutelare la salute di tutti noi Vi ringrazio per tutto e sappiate che il sindaco vi vuole bene Questo periodo è un po' difficile ma so che insieme ce la faremo e ricordatevi distanti ma uniti Buona Pasqua andate più bene Grazie, recita il cartello fatto dai dipendenti di Marche Nord per ringraziare l'azienda Ferrero che questa mattina ha consegnato 2200 uova di cioccolato per ogni dipendente di Marche Nord 20 bancali da 120 uova a distribuire le prime delizie di cioccolato il direttore generale dell'azienda ospedaliera Maria Capalbo con il direttore anche la dottoressa Stefania Rasori direttore dell'unità operativa complessa professioni sanitaria IOTR che in questa emergenza ha coordinato il comparto infermieristico tutte queste attenzioni ha detto Capalbo ci riempono il cuore e continuano le raccolte fondi in favore dell'azienda ospedaliera Marche Nord il centro ricreativo aziendale dipendenti il CRAD della Banca di Credito Cooperativo di Fano in dieci giorni grazie alle donazioni dei collaboratori supportati da familiari e amici ha raccolto la cifra di 5.000 euro invece la ditta Jolly Casa International di Calcinelli ha donato un generatore di ozono al gruppo comunale della protezione civile di Colli al Metauro che sarà dato in uso prioritario alla potes di Calcinelli e poi un altro marchinario indispensabile per sanificare e igienizzare i mezzi di soccorso e gli ambienti a ritirarli sono stati ieri il sindaco Stefano Aguzzi e il responsabile della protezione civile Giovanni Battistelli ed è stata annullata purtroppo la tradizionale processione del Cristo morto a saltare nel comune sempre di Colli al Metauro ogni anno infatti la sera del venerdì santo si rievoca la passione di Cristo con una processione storico-religiosa tramandata dalla Medioevo e ripristinata nel 1847 dalla confraternita di Maria Santissima Adolorata quest'anno però per affronteggiare l'emergenza coronavirus l'iniziativa non potrà svolgersi e vi ricordo che Fano TV trasmette in diretta le celebrazioni di Papa Francesco e del Vescovo Armando Trasarti in questo cartello potete vedere gli orari delle messe in onda in programma fino a domenica al giorno di Pasqua alle ore 10 trasmetteremo la Santa Messa celebrata al Duomo di Fano dal Vescovo Trasarti mentre alle ore 11 in programma quella dalla Basilica di San Pietro con Papa Francesco e a proposito di riti religiosi e di festività pasquali questa sera ci lasciamo con un video che è stato realizzato da Denis Casarsa e Katia Maldoni che hanno voluto lanciare un messaggio di speranza e di unione io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata arrivederci un segno di partecipazione un segno di speranza un segno per sconfiggere assieme un nemico che oggi accomuna tutti